Enrico Nelli dopo partita di Varazze Genova Calcio, arriva anche un tuo gol, una ottima gara e comunque intanto ti chiedo, la squadra secondo te dove può migliorare ulteriormente? Sicuramente quando siamo andati in vantaggio due gol dobbiamo essere più bravi e gestire meglio la partita, però secondo me abbiamo fatto una distretta gara e possiamo ancora migliorare. Siamo giovani l'importante è che ci rendiamo bene e poi tutto arriva da solo. Perfetto, e anche a te faccio la stessa domanda, si è ripreso dopo una settimana, ne avevamo tutti bisogno soprattutto i ragazzi che giocano al pallone, tu sei molto giovane e sicuramente si sente di più la mancanza del calcio. No, no, mancava tanto la domenica, sicuramente di entrare dopo così tanti mesi in attività non è facile, perché comunque senza aver fatto amichevole, non abbiamo ancora il ritmo partita, però gioassene con la domenica siamo contenti. Dobbiamo continuare così e secondo me possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Ok, hai idea di che da fare per il gol? Lo dedico a mia famiglia come sempre, nessun altro. Grazie, grazie Enrico Anelli. Grazie.